Il periodo che si apre è un periodo delicatissimo, ma che dobbiamo saper affrontare con responsabilità. La Residenza Sociosanitaria Assistenziale per Anziani, Villa Giovanni XXIII di Bitonto, in questo periodo di forte emergenza sanitaria, che ha visto proprio le RSA e RSSA come focolai di coronavirus, è rimasta fortunatamente senza contagi, sia tra i 130 pazienti che tra le 100 unità del personale sanitario. Questo risultato però non fa abbassare la guardia al direttore e al personale. Noi siamo particolarmente preoccupati dalla fase 2 e dalla fase 3. Nessuno si illuda che la situazione in RSA è cambiata, anzi, io dico e sto dicendo ai miei collaboratori che forse dobbiamo anche alzare ancora di più il livello di protezione, perché come mi è più volte capitato di dire, quando si aprirà la fase 2 e la fase 3 noi a casa non incontreremo più solo la moglie o i figli, ma troveremo persone che a loro volta hanno incontrato n persone. Io vorrei ricordare che i nostri dipendenti non sono stati sottoposti a tampone e quindi il rischio che possano veicolare all'interno della struttura il virus è altissimo. Ci si mobilita intanto per i pazienti che avranno bisogno di frequentare la struttura usufruendo del centro di urno o per eventuali ricoveri. È evidente che non possiamo pensare di tenere chiuso servizi che comunque sono importanti per le famiglie. Immaginate il centro di urno per i malati di Alzheimer è un sostegno, un servizio molto importante. Servizi di cui si avvertirà l'urgenza soprattutto quando le persone torneranno a lavorare perché in questo momento la pressione e il blocco dei ricoveri è stato sostenuto perché le famiglie sono rimaste a casa. Quando torneranno di nuovo a lavorare e non potranno occuparsi dei loro cari che sono gravemente ammalati e non autosufficienti è evidente che si dovrà pensare di nuovo a riaprire il ricovero anche dall'esterno. Bisognerà farlo con tutte le precauzioni possibili, tamponi all'ingresso, un isolamento per 15 giorni fino a quando con sorveglianza attiva per vedere se sorgono sintomatologie. Grazie a tutti.